Sono ripresi nella zona sud del comune costiero di Roseto degli Abruzzi i lavori di realizzazione del centro raccolta rifiuti e quello del riuso dopo lo stop di circa due settimane provocato dal ritrovamento nell'area del cantiere di Amianto nel sottosuolo. La zona con le lastre di Ethernet vicino alla cabina di trasformazione dell'Enel era stata infatti circoscritta e coperta per evitare dispersioni e verrà bonificata la prossima settimana. Andiamo avanti su questa strada, dichiarato l'assessore Nicola Petrini, stiamo togliendo con questo progetto una discarica e stiamo ripulendo l'area. Le problematiche non mancano e quella piccola quantità di Amianto ritrovata è stata buttata nel corso degli anni da qualcuno. Abbiamo avvertito la ASLE, abbiamo fatto un piano di lavoro e siamo pronti per rimuovere l'Amianto, intanto in una zona del cantiere siamo già pronti. Un'opera che ricordiamo criticata nei mesi da cittadini, comitati e commercianti dell'area di Fonte dell'Olmo dove a sud dello stadio sorge il cantiere. Sono meravigliato di come ancora oggi le associazioni continuano a fare baccano sulla situazione dei due centri. Non bisogna raccontare ai rosetani le bugie, questa struttura regala un servizio utile e indispensabile per i cittadini rosetani, che ci ringrazieranno quando sarà tutto pronto, conclude l'assessore Nicola Petrini.